Musica 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 Benvenuti ragazzi, qui è il netto da seguire, siamo qui in un nuovo video da Dark Trilogy Siamo bello! Ah! Ciao! Ok. Guardate i miei bei occhi Oh mio Dio! Quei limpi Sono secso. Guardate, tentacool in testa, ah bello Che tra i ragazzi il capello si chiama tentacool con la C maiuscola E' molto cool cool Allora Abbiamo fatto Abbiamo fatto tantissime cose dall'ultimo episodio Spigami due secondi una cosa, vieni un attimo Io stavo macerando l'oro, ok? Un gold ore mi da due gold dust, ok? Sì. Come cazzo fanno essere dispori? Eh non so, infatti pare anche a me strano Mind blown Mi è apparso anche quando facevo l'iron così No, perchè secondo me aspetta Aspetta che adesso controllo Ah! C'è il 90% per un secondo qua Quindi questa fa cagare Ahah! Per mettere il mind digger dentro la cosa Comunque abbiamo fatto moltissimissimissimissimissimissime Diciamo che abbiamo minato come dei coglioni Adesso io vado a far vedere Ha minato come un coglione Esatto, vado a far vedere la miniera che ho fatto io No, allora un po' l'ho fatta io Nel video come potete vedere Però poi Merlo tipo Dato che non ha un cazzo da fare e possiamo dirlo Si mette lì E fa il branch mining E scava il branch mining come un porco E tipo Io ora voglio aprire la cesta dei minerali Però Eccola Abbiamo coal Ancora iron dust Abbiamo molta molta roba E abbiamo fatto questi piccoli E qua ci sono tutte le cose grezzi Vabbè, poi là Tutte le cose grezzi Che maceriamo Ehm Vabbè, si Qua Qua Tutte le cose grezzi Che poi maceriamo e ce le danno doppie Poi mentre scavamo abbiamo trovato Queste cose qui Che potete vedere Oh Queste qua sono cresciute Cazzo però che no C'è sempre male come un coglione Quelle verdi sono le più utili Eh, vabbè Sono Diciamo delle Farmatrici dei materiali Sì Delle Delle farm di materiali Solo che ha A cespuglio Praticamente quando crescono le bacche Che abbiamo appena raccolto Ci danno Queste qua Uno di queste merde Esatto E noi con nove di queste facciamo un lingotto E questi invece che ho appena preso Che mi ha messo nello zainetto Che sto per far vedere tra un attimo Ok, no, eccoli qua Sto solo lagando E questi hanno esperienza Quindi sono i più utili Guardate quanta ne dà Qual è? Qual è? Quello verde Se te tolgo la torcia Perché crescono il bug Come faccio a prenderla? Eh, è uguale Sono dentro Ah, lo devo tirare per terra E' il cespuglio quello verde Eh, sì, ma lo devo tirare per terra Eh, sì, ma lo devo tirare per terra Io allora ho fatto della tin E del... Che cos'è questo? Gold Però non mi si fa Eh, devi metterlo a nove Cioè, devi... Devi cuocerlo prima E poi ci siamo fatti gli zainetti E poi ci siamo fatti gli zainetti questi qua Che sono un po' scambi Sì, hai detto Cioè, amminari sono utilissimi Perché c'è Miners e Diggers Qui va tutta la terra La Flint, la Gravel E qui vanno tutti i materiali Automaticamente Vedete che se tipo io adesso prendo Cazzo ne so Un coglione sono Cazzo ne so Prendo questi E vedete che li ho appena minati Li ho appena scavati Li prendo E finiscono qua Chi ti trattare Tosse E' tosse Però dovete fare il caso che tipo io tiro un'acqua Una... Colcat... Porkchop per terra Lo prende il Mindinger Esatto E dice che è una cosa greta 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 Allora siccome dobbiamo macerare tutta questa merda E il mio cliente mi ha... AFK pavo con un fermacare sul mouse Per macerare tutta Solo che poi sono morto Però poi è morto Vabbè, amen Silenzio Non lo so nessuno E comunque guardate Abbiamo 27 stack di red Sono dovuto fare un barile Questi tengono 64 stack Perché il ce n'era troppo Prendiamoci conto Ecco Oggi siccome è un po' Una rotura di coglioni Non c'erare queste robe È anche una rotura di coglioni Sporcare tutto sto carbone Per cuocerle Abbiamo deciso che facciamo la corrente E li cuociamo con la corrente proprio Non andremo avanti nella mod con le tecniche Facciamo solo una mini roba per automatizzarci un po' E essendo che se facciamo tutto sto cazzo di lavoro Per porto senza carbone E poi generiamo corrente col carbone È un po' una minchiata Maggio solo un attimo E abbiamo deciso che si fa la corrente con la lava Gigi Oh Cuociamo del ferro uso ore Yep Che andrei a macerare E dove cazzo è qui ne abbiamo 31 Perfetto Che andrei a macerare per farne di più E con questo ferro uso simpatico ore Ci possiamo fare No lascia la polvera di ferro Abbiamo la polvera di ferro Eh? Sì Ci possiamo fare l'invar E appena ce l'abbiamo Ma il ferro sore lo devi cuocere? No Ok allora Devo fare la polvera di ferro Mi serve anche la polvera di ferro Non la polvera di ferro Non la polvera di ferro Qual è questa? Si Invalido Abbiamo Abbiamo mixato le cose Quindi io ti rubo il loro E metto qua c'è l'invar E l'invar E l'invar Ci serve per creare una cosa simpatica Che si chiama così Quelli del mio video Lo vedono Quelli del tuo No Quindi serve l'invar pickaxe Un pistone Ah ci serve la team Ci serve la team Ci serve Abbiamo due tingenti Un saconotto Abbiamo più elen... Un saconotto Mancano sai tgl Tintintin Tintintin Le pelle Not subsequent Los Not i & Not in Not in Potentro Stavo Stavo Aspetta Volevo e Buddh Slominium Ci serv��anfattina Illuminium Ti facevo la cosa Che fignone Faccio la memory card Che cazzo faccio la memoria sei team gg posso fare una cosa di della bb fa figo ah ho capito cosa vuoi fare nooo, mi facevo una gap o lo mi facevo una lanterna della bb a nessuno, non ho capito cosa vuoi fare penso volessi fare questo aspetta eh aspetta non vedo il tuo schermo lo so ma sto guardando infatti l'hanno tolto? vabbè io mi faccio una gap c'è pochissima cosa della bibliocraft mi hanno tolto il monopolo uffa dove vuoi il monopolo? io faccio una bella cosa sexy di sexy e allora vedi che sei un giovane tu l'hai fatta di slab io no, cioè non l'ho fatta io, c'era già di slab ah l'avevo fatta io ecco appunto perchè ne avevo messa una su eeeh allora eeeh no perchè volevo fare questo e qui no dai cazzo dimmi che non sono ordinary questi froci da Minecraft che due palle aspetta 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 ma come? ma porca troia aspetta non sono ordinary? wait 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 no che cazzo mi hanno cambiato la recipe per i team gear? froci? ok non lo sapevo eeeh ok craftiamo velocemente dei team gear che mi servono quindi mi servono dei team plate quindi mi servono un martello quindi si mi serve del ferro tu tu perchè il rubberwood da 3? perchè è tarocco? quello della industria del caffè e da zero si è fortunato che è quello della cosa ma non abbiamo più legna ah no ce l'abbiamo ce l'abbiamo a meno che l'abbiamo da cosa eh così poco che vado a prendere un po' di legno io sto craftando come un cane ma io non so cosa graffi ma sai quani dintorni che ho quasi finito si non mi muo mica di tanto io fai un'altra graffi parapa pam 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 quindi l'invar ce l'ho dove? ce l'ho qui si nooo ops 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 oh sei scemo devo aprire la cesta eh mi devo prendere una cetta me posso fare una cetta di stone quella infinita si 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 e così vedi anche se sei capace se hai capito allora 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 qua ci stanno i cosetti smasher mi serve un pistone o uno servo ah mi serve lo stink un colno perchè già ce l'avevamo questa è dell'ascia ecco questi zainetti di merda ok no cosa? ma per l'ascia cosa mi serve? serve per gli stessi ti serve questo aspetta ti dico questo questo no no l'ho fatto l'ho fatto ah ok eeeh e di stone lo devo fare così e invece guarda nella crafting perchè ho fatto una cosa fantastica quella sopra quale craft è quella sopra? si l'hai visto? no allora adesso vieni giù in minira aspetta una cesta una cesta una cesta ah hai fatto già la palla e la cesta l'ho data non neanche l'ho fatta l'ho data e basta ah ok e no ma non segui adesso era giusto per averla vieni sotto vieni sotto in minira wait 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 ok quindi se io adesso piazzo questo faccio qui così chi guarda in giù? chi guarda in giù ho detto dimmi che posso romperti sospetto di sì vero? si che cazzo è? ok ma è piazzalo chi guarda in giù? che faccia in giù? eh giusto perfetto ho capito stai calmo eh devi mettere un blocco sopra non so ahi no ma di merda ma porca troia ok ok vedi che hai rotto l'ossidiana? non è vero si adesso la metto alla cesta e guarda nella cesta nooo e quindi adesso noi dobbiamo ripetere questo processo di coso l'ossidiana ma forza schifo fammi pensare 10 12 14 volte quindi io penso che tagliamo il video a me tu dai cazzo che è l'ultimo dai che è l'ultimo dai che è l'ultimo no dopo dobbiamo fare la pompa del nether ma facciamo più tardi hai te la hai te l'altra cesta ooooh 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 io ciao io blocco la registrazione 23 minuti deck e e renderizzo dai base allora ci vediamo più tardi ok ragazzi siamo senza angelo questo quindi io piazzerei intanto il portale del nether tanto è una cosa che possiamo fare anche senza di lui e crafterei la pompa insieme così on camera e per poi e piazzarla e metterla in posizione insomma con lui e proprio giusto per craftarla per fargli finire l'episodio quindi uno due uno due piazziamo il portale bum bum dovrebbero rimanerci due pezzi se ho fatto i calcoli giusti se no vado a prendere più ossigena no ce ne sono rimasti due ho fatto i calcoli sbagliati ce ne servivano due in più vabbè andrò a prenderli più tardi c'è un creeper di merda c'è un creeper di merda c'è un creeper di merda non farmi esplodere le cespi perché l'ultima volta me le hai fatte esplodere frog ok problema critter risolto frog allora dovremmo avere una flint qui dentro giusto gg dovremmo avere del ferro qui giusto gg 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 e possiamo lightare il portale bum ed eccoci qua nel nether il mondo si è generato l'ho lasciato un po' generarsi e siamo in un brutto posto per le mie aspettative poiché io avrei voluto un nether con della lava abbiamo dell'ar- inferna live non è ardite purtroppo anche questa è ardite e si sta ancora un po' laggando perché deve ancora un po' generarsi forse 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 è meglio appunto mettere un white point e con scritto portale proprio giusto per sapere da dove uscire e poi andremo a cercare insieme un lago di lava su quali piazzare la pompa che però crafteremo con engine credo perchè non c'ho voglia di farlo adesso principalmente perchè non c'ho voglia e allora che cazzo fa ok ragazzi andiamo a cercare un lago di lava direi che l'abbiamo trovato ora ricaverò una mini scaletta proprio giusto per scenderci e si e cercherò un posto dove fare la pompa creerò la piattaforma dove creare la pompa e il cincinso oh cazzo gente devo solo capire dov'è e poi è morto vabbè ahi sei tu frocio vabbè da ogni modo sto ricavando qui una mini scaletta per scendere e la sto facendo di cobblestone per appunto paura dei gust merda ok e si master scala 45 frocio te la faccio ribazzare oh cazzo ah frocio vieni qua in faccia a dirvelo questo diventa boom return to scender frocio ok e mi piace uccidere i gas sono i mob più brutti di minecraft secondo me comunque e ad ogni modo boom 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 e abbiamo una scaletta qui poi ne creiamo una qui minchia e adesso spiegami come sei spawnato qua tu non dovresti volare un infatti in una grotta rocio cosa cosa scappi cosa scappi cosa scappi infatti tieni qua ma solo rocio bastardo ho preso anche le tier due gas tier uff ciao imp non mi serve ok ragazzi la scalinata è completa possiamo tornare al portale in tutta sicurezza ora voglio vorrei creare il mio coso con la cobblestone la mia pompa quindi direi di uscire un po' in questa direzione finchè la lava è un po' profonda quindi più o meno qui e poi creare il solito 3x3 perchè la pompa che voglio creare è proprio il design classico per chi mi segue per chi conosce un po' qualcosa di mod e conosce sicuramente il design classico della pompa credo che la mia udienza l'abbia già visto anche nella mui semplicemente dei redstone engine e e la pompa in sé non voglio usare la ender thermic pump dalla extra utilities perchè sicuramente è meglio anche per il server sarebbe meglio e appena ne avremo la possibilità la cambierino però richiede ender parli che al momento non abbiamo quindi noi ci rincontreremo con Angela appena tornerà per craftare la nostra pompa si quindi siamo tornati yeah ok io sto facendo un po' di crafting of camera siamo tornati con Ancelo lui ti ha solto un braccio no io ce li ho tutti ma a me ti faccio ho fatto un po' di crafting of camera e ho fatto anche un po' di lavoro faccio vedere che è la youtube audience a parte la scaletta che oh cazzo il gas non fagli prendere l'ultimo pezzo del totale perché se lo sono vincolati tanti ha colpito a te spostiamoci ho fatto qua la scaletta eh mi devo portare un arco mi devo portare un arco e poi ho fatto tutto questo tunnel chiaro che non è forte no piccolo problema io non ti trovo scendi dalle scale scende dalle scalette quali scale? le uniche scale che ci sono ho fatto delle scalette ma non le vedo qua guarda guarda guardami sulla mia off ah ecco ci sono delle scalette no aspetta 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 non ho fatto sul disco per salvare la registrazione eh vai 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 devo 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 far spazio aspettato non devo un luce qua oh porca cazzo che cazzo è? ahia mi sono avvenenato mhm devo andare a togliere a far spazio aspetta oh guarda mi... mi give un arco eh aspetta lo vado a prendere l'hobby shot micchia non sparare più gas di merda allora eh l'arco 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 eccolo tre c'è no quattro basta madonna ho 53 giga di roba non cancellata vabbè pure io avevo oh ma mi sta laggando mi sta laggando non mi fa aprire le ceste ok ci sono ma allora non mi fa aprire la roba come non ti fa aprire la roba come non ti fa aprire la roba? se non riesco a picchiarti cos'è che non ti fa aprire la roba? non mi fa aprire le ceste neanche a me ah adesso si vedo no non so che glielo aprire ok aspetta non mi fa l'arco non mi fa l'arco non mi fa l'arco non mi fa l'arco oh com'è il deris insufficiente base on the disc ma va fanculo aspetta mi faccio una cesta tipo cos'è che occupa spazio? che due palli questo occupa un giga questo non occupa due 275 giga la madonna che cos'è la madonna i video eh? i video i video non ne hanno renderizzati o i video che si non renderizzati madonna eh lo so eh mello non pre-registra almeno se pre-registri editali renderizzati no ma perchè quelli già renderizzati e ce li tengo anche renderizzati perchè mi dimentico di cancellarli eh io invece me li ricordo da 200 giga a 97 giga poi c'ho tutta la sky factory poi il cat e basta vediamo se adesso va eh poi metterò una scelma ok 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 ho avuto due problemi di rack gente scusatemi non lo aspetta sul disco ah me lo aspetta prima in Italia ho trovato questi dimmi ah eh si sono sono tipo gli stessi ciaspugli che abbiamo qua che ci danno cibo solo che sono del nether danno cibo anche questo ah ok eh però velena eh so serio? ah si l'ho mangiato beh comunque io la roba off camera che ho fatto ho trovato la la fortress ho fatto le creature quindi adesso sto craftando off camera qui abbiamo fatto un po' di craft io li vedo senza un braccio però va bene vedrò craft ho craftato la pompa ho craftato 4 redstone engine che adesso spiegheremo a ranger cosa serve poi possiamo fare così no aspetta la pompa so cosa serve serve a succhiare la lava per fare energia che serve poi per eh non lo so più abbiamo un esperto di pompe ok no bannatelo ahahah questa questa va nel video assolutamente eh bannatelo eh no voglio dire abbiamo della lana lì mi dissi ti prego tutta allo stesso colore eh no porca troia vero che vuoi fare quella lana dove? che le cagole e le pecore? si fa un culo merlo non lo so ah calderone ossidiana vabbè dai esiste il cercare ma non trovare vabbè mi fa un culo mi servono vabbè comunque ci mancano le endertank ad ogni modo la pompa è questa ho craftato più o meno tutto mancano solo le lane possiamo craftare le endertank ho craftato le endertank usare l'ing sack to bind and attack to pay ok cg non so più la cosa sto finendo un piccone di rubina e vieni posso fare la lava aspetta i can do the lava bitches cinque cinque minuti cioè cinque secondi i can do the lava ok mi ha portato qua di catena aspetta nooo rezzo le ratte lo voglio anch'io cosa? ah quello si l'ho trovato da un pollo vabbè vieni nel neda vieni nel neda wait 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 neda rati ah li uccido il bastard ah i cast ti sei fatto l'arco no c'erano due mezzi rotti a sette frecce ah eh io scappo perchè non posso tutta la roba scendi 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 se riesco a prenderlo era meglio cazzo ho scendato l'arco ok sto scendendo sto scendendo ora viene un pigman no tanto sarà prima lo spazio per la pompa per tutte le pompe allora ti spiego piazza la pompa ok no posso farlo io 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 ok allora aspetta vieni togiti dalla lavatino le cose non so dimenticato una cosa bello e la pompa serve corrente ok abbiamo questi che generano corrente dalla se questo lo so le diane se lo so sono le leve e poi ti serve un posto dove questo lo so la tannica e la gamba ti ho dato la tannica ok si ah questi so come funzionano la piazza lì tutto intorno e verso di lui o in alto tanto si si mettono da solito in quello togite e poi mettere le rega ai due angoli ah ecco cosa dimenticato su una pirla ok e poi metti la tannica sulla sopra perchè questa non parte mette la tannica sopra e non funziona vero? no perchè bisogna pomparle fuori ah no 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 funziona non funziona nulla oh 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 tanto dovrebbe essere tutto indistrutibile è indistrutibile io ho sparato addosso yes no per la pompa pompi mmm chunk loader messo ce ne abbiamo due eh no però avevi ucciso quella ma che palle lavava? mi ha bruciato la lacrima di gasta vaffanculo ecco perchè non mi ha dato la cima eh quello no rompi rompi un po' il blocco cioè però nel ladder devi romperlo abbiamo la lava quindi abbiamo l'energia e quindi abbiamo l'el fa e se premmo sto coso che succede? ok allora mi ci diverto ok allora io la farò impacolare si però c'è un piccolo problema questa cosa nera la dobbiamo esportare perchè prima del prossimo episodio avremo la casa e ho voglia più che altro non si vabbè aiutarmi si e aspetta i capezzoli i capezzoli certo eh? ok dai no io lo no io mi arrendo non voglio fare più la serie con lui vai fa un culo